Buonasera e ben ritrovati dai campionati CAI, gol del league di calcio a 5, si sfidano i padroni di casa dello Special Team e Baracca Luga. Special Team in maglia Granata schiera Guarnieri, Carini, Contini, Martani, Zirapi, Sebastiani, Libelli, Nicolescu, Pellegrini, Scaffardi e Concari, allenatore Mr. Libelli. Risponde invece Baracca Luga in maglia gialla con Villa, Brunelli, Franchi, Pizzelli, Turci, Coric, Galli e D'Averio. Allenatore Mr. Martino arbitra il signor Sandro Lecca. La prima occasione del match è per Special Team con Contini che addomestica molto bene il pallone, si gira con il mancino, va in porta, gran gol in suo, quello che vale. L'uno a zero. Insiste ancora Special Team con questo tiro, il pallone viene respinto e allora Baracca Luga ci prova con Coric direttamente da lontanissimo, il portiere è attento e devia il pallone. Special Team poi ancora in attacco sempre con Contini che questa volta decide di fare tutto da solo, si sposta il pallone sul mancino, il risultato è sempre lo stesso, palla all'angolino, doppietta personale ed è 2 a zero. Risponde poi Baracca Luga sull'out di destra con Coric che qui dribbla un avversario, va in porta con il sinistro, pallone preciso all'angolino, accorcia le distanze, 2 a 1. Special Team però ancora in avanti qua l'1-2 tra Sebastiani e Contini, poi il pallone in mezzo per Carini che a tu per tu col portiere non sbaglia e fa 3 a 1. Baracca Luga però non ci sta e da rimessa laterale trova il gol del 3 a 2 ancora una volta con Coric che va sempre con il mancino, trafigge il portiere ed è 3 a 2. Special Team poi riparte però ancora una volta con Contini che qui si fa appoggiare il pallone, aspetta il movimento di un compagno, lo trova in Carini che poi con il destro al volo, gran gol, doppietta anche per lui ed è 4 a 2. Ancora una volta Special Team in avanti qui con Contini che va in porta, colpisce il palo, il pallone poi diventa buona ancora per Baracca Luga, il portiere bravissimo però a respingere la conclusione. Baracca Luga però trova il gol del 4 a 3 con la tripletta di Coric e prima dell'intervallo trova anche il gol che vale il 4 a 4 qui con Galli che recupera il pallone, passa a Franchi che deve solo appoggiare in rete il gol che sigla la parità e arriva qui il duplice fischio al termine di un bellissimo primo tempo, la sfida è in parità, siamo 4 a 4. Nella ripresa ancora Special Team che prova a riportarsi in avanti con il pallone recuperato in mezzo al campo, Carini va in porta con il destro, potentissimo, colpisce la traversa che gli nega. La gioia della tripletta, gioia che però arriva poco dopo direttamente su calcio di punizione, Carini va direttamente in porta, potentissimo, sorprende il portiere ed è 5 a 4. Special Team poi ancora in attacco, qui il pallone viene recuperato da Sebastiani che fa tutto bene, appoggia poi a Scaffardi con il destro sotto le gambe del portiere ed è 6 a 4. Special Team e Sebastiani Show in quest'azione dribbla praticamente tutti, poi appoggia ancora Scaffardi che deve solo mettere in porta la doppietta personale, è 7 a 4. Arriva poi anche la tripletta per Scaffardi direttamente da calcio di punizione, va centrale molto potente ed è 8 a 4. Prova a reagire Baracca Luga con un po' di orgoglio nel finale, qui il pallone è appoggiato a Pizzelli che va in porta ma il difensore bravissimo a salvare sulla linea. E arriva poi la terza tripletta per Special Team con Contini che addomestica molto bene, si gira col mancino e trova il gol. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, Special Team batte 9 a 4 Baracca Luga e si aggiudica lo scontro diretto.